Come Dorian Gray, anche i nostri VIP sembrano ringiovanire miracolosamente. Nei video postati sui social i volti diventano lisci e freschi. Clizia Incorvaia ha postato delle storie su Instagram, apparendo ringiovanita di almeno 20 anni. L'utilizzo smodato dei filtri e l'intervento digitale stanno diventando sempre più diffusi, creando una realtà distorta. Il web si è subito scandalizzato poiché queste influenze possono condizionare le giovani followers. L'abuso di filtri estetici non aiuta, soprattutto quando si tratta di corpi ancora in fase di crescita e sviluppo. Le influencer dovrebbero fare la differenza invece di mostrare visi rifatti irreali. Clizia Incorvaia e altre celebrità sublimano la realtà creando un'immagine distorta di se stesse. Questo comportamento potrebbe influenzare negativamente le menti delle giovani followers. Mostrare i propri difetti senza vergogna potrebbe essere un'opportunità vincente, sia a livello personale che commerciale. Pamela Anderson ha fatto del suo volto naturale un business di successo, apparendo su copertine e pubblicità senza trucco. Le influencer dovrebbero prendere esempio da queste personalità, mostrando la propria autenticità anziché ricorrere a filtri e interventi estetici eccessivi. La responsabilità sociale delle celebrità è grande e dovrebbero essere consapevoli del potere che hanno sulle giovani menti che le seguono. Mostrare la realtà se essa filtri prepessi e le perver me topostato del nostro corso gratuito. Grazie a tutti.